Secondo le ultime previsioni del meteo, sole e caldo caratterizzeranno il clima per tutto il weekend all'inizio della prossima settimana, con temperature altissime oltre la media stagionale. Già da martedì 24 maggio tuttavia è previsto l'ingresso di una perturbazione atlantica che porterà temporali anche forti al nord e poi al sud, almeno fino a venerdì 27 maggio.